Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute, bentrovate, come state? Spero bene, eccoci qua nel nostro consueto appuntamento mattutino, spero, mi auguro davanti a una bella tazza di caffè o di latte, insomma, la colazione, così come tra amiche, sfogliamo il giornale, vediamo l'oroscopo oggi che ci dice, se invece noi andiamo su Youtube, clicchiamo sul canale di Zahira e vediamo il messaggio del giorno, l'universo, il fado, qualsiasi cosa voi crediate, cosa vi deve arrivare oggi. Per la legge della sincronicità sapete che se vi trovate qui in questo momento qualcosa l'universo vi deve far sapere, fosse pure un numero, una parola, una frase che vi apre la mente, il cuore. Allora, vi dico le carte, abbiamo gli oracoli dell'adminazione, l'oracolo risponde, abbiamo le carte verdi di Zahira come indicazione e abbiamo i tarocchi, vedete, meravigliosi tarocchi delle streghe argentate. Allora, come di consueto io scelgo le carte qui davanti a voi, quindi io mischio le mie carte e sapete, non sappiamo mai di cosa si parla, il messaggio può avere indicazioni su qualsiasi argomento, tranne la salute perché quella la lascio ai medici come dico spesso, vi voglio anche puntualizzare che anche se io mi rivolgo spesso al femminile, questi messaggi non hanno sesso, ok? Possono riguardare coppie, tanto qualsiasi tipo di coppia, le cosiddette coppie al cobaleno, oppure uomini o donne, quello che vi pare, chissà dall'altra parte, io per comodità mi rivolgo al femminile perché siete molto di più, ma sapete sicuramente che non c'è sesso, ok? Quindi se dico anche l'uomo della vostra vita, se siete un uomo sarà la donna della vostra vita, va bene care? Allora, qui si sono già delineate alcune carte e mi fa molto piacere perché sapete che io preferisco che le carte parlano da sole, ecco qua. E siamo, bene, adesso operiamo il taglio e vediamo a fondo mazzo il re di bastoni abbiamo qua, è un bel re di bastoni, li mettiamo qua così ve lo faccio vedere. Allora, andiamo a vedere adesso gli oracoli, le carte e gli oracoli della divinazione, no, no, queste se ne sono girate 4.000 e sapete che io non posso prenderle, ne basta una a massimo, possono essere tre, qua si sono girate alcune carte e abbiamo la storia infinita e scambiarsi i doni, molto bene. Aspettate, voglio fare un po' di spazio, ecco qua, quindi andiamo, speriamo che questa allarme smetta di suonare, allora andiamo a vedere l'indicazione con le mie carte verdi di Zaira, sapete che queste carte o comunque qualsiasi mazzo metto là, indica di cosa parliamo, ecco qua, anche qua ne sono uscite due, voglio riconciliarmi con te, non riesco a dimenticarti, oh perbacco, qui si preannuncia un messaggio emozionante, intanto probabilmente si parla d'amore, eh? probabilmente qui si parla d'amore, vediamo se riesco a mettere il re di, no, non lo vedete qua, vabbè, lo lascio qua. Allora, ragazze, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il mago, abbiamo l'otto di bastoni, il tre di pentacoli, abbiamo il paggio di spade e abbiamo il sette di bastoni. Fondo mazzo, come vi dicevo, il re di denari, poi è uscita la carta, voglio riconciliarmi con te, non riesco a dimenticarti, scambiarsi i doni, la storia infinita. Allora, qua mi sembra tanto di vedere quelle storie, appunto, appunto la storia infinita, cioè quelle storie che non sono poi reali, eh? Nel senso, è l'ego che riflette su queste storie che non sono reali, quindi potrebbe essere qualcuno che ha paura di amare, di lasciarsi andare, potrebbero essere vecchie storie che si ripetono, che ritornano per insegnarci qualcosa. Insomma, è come dire, sapete, quando una storia va, viene, una persona entra, riesce, facciamo pace, litighiamo, insomma, si dicono storie infinite. E qua esce proprio questa carta. Quindi qua sicuramente, per la maggior parte di voi, questa è una stesa relativa a chi ha storie di questo genere. Ok? Se non ce l'avete, potrebbe essere un qualcosa che vi può succedere, perché voi sapete passato, presente e futuro, qui non possiamo stabilirlo. Noi parliamo del messaggio del giorno, però questo messaggio che vi deve arrivare può avere una collocazione sia nel passato, sia nel presente, ma potrebbe essere anche una cosa che ancora vi deve accadere. Allora, per coloro che magari già è accaduta, mi viene più facile parlare in questo modo, c'è questa storia. Il numero corrispondente di questa carta è il 37, il 73, o il 3 o il 7. Quindi qua potrebbe essere il 3 luglio. 3 luglio abbiamo a che fare con segni di, potrebbe essere cancro, leone. Il 7 marzo potrebbe essere pesci, per dire, no, vi faccio, vi do delle indicazioni, potreste essere del 73, del 37, non lo so, vedete voi che cosa vi può significare. Qua c'è l'altra carta è scambiarsi d'ore, dare, da avere in amore reciproco, no, il successo negli scambi. Cioè, questa carta vi dice, voi per avere successo, per avere quello che veramente si merita ogni essere umano, ci deve essere un dare e avere in amore. Cioè, deve essere sereno e reciproco, gli scambi, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, successo negli scambi, scambiarsi appunto i doni. Carta numero 27, anche qui lo stesso discorso, il 72, il 27, oppure il 2 o il 7 o il 9, qua c'era pure il 10, ho dimenticato di dirvelo. Potrebbe essere il 2 luglio, anche qua, quindi qua ancora si rafforza l'idea di un cancro, di un leone. Adesso non ricordo bene da che parte il cancro dopo il leone, insomma potrebbe essere il 7 febbraio, qua, anche qua, insomma i segni potrebbero essere molto legati fra il cancro, leone, pesci. Ok? Questa persona vuole riconciliarsi con voi, perché non riesce a dimenticare? Ecco là, qui abbiamo il re di denari, potrebbe essere anche un segno di terra, capricorno, vergine e toro, portarne l'ascendente. Avere una luna, marte, venere in questo segno, oppure semplicemente avere l'energia del re di denari. Una persona molto facoltosa, magari impegnata, una persona che pensa molto al suo status, al suo lavoro, alla sua professione, ai soldi, al suo piacere, insomma un po' empatica, molto materialista. Qui abbiamo un inizio di situazione, vedete abbiamo avuto una collaborazione molto bella, questa persona probabilmente ancora vi spia, vi sorveglia, vuole architettare qualcosa perché vuole ritornare da voi. Vedete questo come corre, guardate come corre, guardate com'è partito, perché vedete l'otto di, come si chiama, l'otto di bastoni, scusatemi, l'otto di bastoni è una carta di tensione veloce, quindi questo qua adesso si è messo in testa con il mago, vuole subito un inizio, vuole manipolarvi, affabularvi con le sue chiacchiere, con il suo modo di fare, con il suo fascino, per carità, perché parliamo sempre di un re di denari, attenzione, quindi che cosa vuole fare? Vuole fare in modo di eliminare queste tensioni, di correre presso di voi qualche messaggio, qualche situazione, infatti dice voglio riconciliarvi, vuole nuovamente con voi, vedete, costruire un qualcosa, vedete? Però questo qua è uno che fa lavorare solo voi, vedete come sta a posto? Lui si siede, si mette là e attende e voi dovete fare tutto il lavoro, questo è il suo modo di collaborare, ok? E qua viene in circolo la carta scambiarsi i doni, voi dovete pretendere un giusto dare e avere, ok? Se non c'è questo, non è un amore saggio, vedete? Questa persona con il paggio di spade mi viene fuori un po' immatura, immatura, un po' manipolatrice, quindi insomma avete a che fare con una persona che per l'energia sua, come persona, lavoro, status eccetera, fa tutto quello, tutto di un pezzo, stabile, insomma ricco, benestante, buona professione, però nei sentimenti appare un po' manipolatore, un po' infantile, uno che aspetta che fate tutto voi, è abituato a che siete voi a portare avanti questa relazione, è una persona che poi spesso può avere delle situazioni antecedenti a voi che gli creano, deve superare degli ostacoli, e qua mi viene fuori questa carta, viene così disegnata come una specie di famiglia che sta a casa che aspetta, vedete? Due figli, una con il bastone, il cane, il gatto, insomma qua probabilmente con questa carta e quella del re di denari, io non escludo che questa persona possa avere degli impegni familiari, un ex, oppure proprio sposato, voi siete l'altra, insomma questo poi lo sapete voi. Adesso qua il messaggio di oggi, voi direte, Zahira dove vuoi andare a parare? Voglio andare a parare, cioè io, le carte, che qua c'è una persona che vuole riconciliarsi con voi, non riesce a dimenticarvi, però queste carte vi dicono, attenzione, qua avete a che fare con una storia infinita, attenzione, l'ego che riflette sulle storie non reali, forse voi avete idealizzato questa persona, pensate che questa persona è la persona della vostra vita, potrebbe anche essere, ma questa persona ha paura di amare, di lasciarsi andare, quindi questo suo essere così può essere dovuto a questo, oppure impegnato, oppure ha altro da fare, vi mette, vi dà poco, vi mette in un collocazione, non lo so, il lavoro, la mamma, la zia, la nonna, i suoi vestiti, la sua macchina, i suoi diversi, e poi venite voi per dire, no? Mentre invece voi lo mettete al primo posto, anzi, vi date da fare molto per far girare questa situazione. Quindi qua potrebbero essere, potreste avere a che fare con storie che si ripetono, quindi il karma per insegnarci qualcosa, storie karmiche, voi avete a che fare con una persona così, perché dovete capire qualcosa. In ogni caso, il messaggio, il consiglio, quello che vuole dire l'universo è, non dovete scambiare questo per un amore, l'amore è scambiarsi i doni, l'amore è il dare avere, in amore deve essere reciproco, il successo negli scambi, questo è il vero amore. Quindi questa persona, se vuole che fate tutto voi e lui non fa niente, per giunta va e viene, oppure se la gira a modo suo, dovete riflettere. Non state in un vero amore, ma state in una storia che si ripete, che vi deve insegnare qualcosa. Quindi sta a voi, ovviamente io non sono qui per dirvi cosa dovete fare, io sto qui a dirvi cosa vi consigliano le carte. Poi ognuno può prendere la sua decisione, ok? Questa persona fa così, vuole riconciliarsi, non riesce a dimenticarvi, però poi quando torna è manipolatore, è un po' diciamo che pensa a se stesso, è un po' infantile. Magari questo chat, che ne so, boh, sta sempre sui social. È una persona che aspetta che fate tutto voi, quindi non c'è una vera e propria collaborazione, tant'è che esce questa carta, scambiarsi i doni, cosa che lui probabilmente con voi non ha mai fatto. Quindi questo è quanto, riflettete, prendete la decisione che vi sentite di prendere. Questo è il consiglio del messaggio del giorno per voi. Io vi ringrazio di essere stati con me, vi do appuntamento a domani, mi raccomando non mancate, un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!